Quando qualcuno vuole spedire una grossa sfera nel cielo per il bene di una popolazione intera, la prima cosa che potrebbe saltare alla mente è la morte nera di Guerre Stellari. La nuova luna, infatti, riflettendo i raggi del sole, dovrebbe essere otto volte più luminosa di quella che vediamo nel cielo ed in grado di illuminare un'area con un diametro dai 10 agli 80 km. Orbiterà intorno ai 500 km di altezza, invece dei 380.000 km e, secondo le attese, potrebbe portare ad un risparmio annuo di 173 milioni di dollari in minori costi per l'illuminazione. Reproduzione riservata Copyright Copyright Danza